E per l'ultima cosa che vorrei dire è che abbiamo preparato un piccolo regalo non solo da me ma di tutta la squadra per ringraziarci di tutto quello che sta facendo per noi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie davvero. Grazie a una splendida arachetta moderna. Grazie, grazie davvero. Grazie, un piacere. Ho portato una cravatta con... Grazie per indossarla se riesco a venire agli assaluti di nome. Quello siamo sicuri che ce la farà. Grazie. Grazie davvero. È sempre un piacere davvero. Grazie a voi.